Ti ha rifiutato, ti ha fatto male, come tenere la rivalza su un uomo? Quattro modi. Allora, se ti ha rifiutato, se ti ha fatto male emotivamente, nel senso che magari ti sei illuso, intanto devi tenere presente che l'illusione, cioè la delusione deriva proprio dall'illusione, cioè uno può rimanere deluso se prima sei rilluso, quindi è molto importante avere chiari questi concetti, perché se non hai chiaro questo concetto, beh, difficilmente riesci a ottenere dei risultati che possano essere validi da un certo punto di vista. La cosa importante è quella di riuscire a ottenere quello che tu vuoi nel, come possiamo dire, nel minor tempo possibile. Cioè stare bene con se stessi. Quindi quando una persona, quando un uomo ti rifiuta, quando un uomo non ti dà quello che vuoi, quando un uomo si pone, diciamo, si allontana, tieni presente che la prima cosa che devi fare è devi dare indifferenza. Non c'è rivalsa migliore, diciamo, dal certo punto di vista della tua indifferenza. Soltanto se riesci ad essere indifferente. Cioè essere indifferente cosa vuol dire? Vuol dire che te ne devi fottere, devi iniziare a pensare che poverino non sa quello che si è perso. Perché se tu inizi a pensare invece, e vabbè però, come faccio? E vabbè però, allora, qua, sarà sicuramente una persona, sarò sicuramente io che ho fatto qualcosa che non va. E quindi se inizi a inseguire, se inizi a fare un grave errore, quello di dare, rendere priorità a una persona che ti dà le briciole, dare, diciamo, la torta a una persona che ti dà le briciole della torta, questo ti renderà sicuramente, come possiamo dire, ti renderà sicuramente infelice da un certo punto di vista. Quindi se tu vuoi ottenere qualche risultato, se tu vuoi ottenere qualche risultato positivo, devi tenere presente questi fatti fondamentali. Che la cosa migliore che tu devi fare, la cosa migliore che tu puoi fare è quella di dare indifferenza. Soltanto dando indifferenza riesci a ottenere, riuscirai a ottenere dei risultati. Non c'è altra possibilità che non quella di dare indifferenza. Secondo punto, secondo step molto importante, impara a stare bene con te stessa. Perché soltanto se impari a stare bene con te stessa, soltanto se impari, tra virgolette, a vivere bene, tra virgolette, in solitudine. Vivere in solitudine non vuol dire essere soli, vuol dire non lasciarsi, diciamo così, vuol dire lasciarsi, non lasciarsi affrangere, non abbattersi per stare da soli. Anzi, vivere la solitudine, vedere gli aspetti positivi della solitudine quando una persona ti ha rifiutato. Perché soltanto se sarai in grado, se imparerai a stare bene da solo, riuscirai a stare bene poi con le persone. Quindi questo è un altro punto fondamentale che devi tenere presente. Come fare a fare questo? Devi uscire fuori dalla tua zona di comfort. Devi riuscire a cambiare un po' i tuoi schemi di pensiero e smettere di alimentare il pensiero da solo. Da sola sono sfortunata, da sola non ce la faccio, da sola non riesco a raggiungere nessun obiettivo. Perché se tu alimenti, ti alimenti di questi pensieri, evidentemente questi pensieri andranno a sovracaricarti, andranno a distruggerti, andranno a rovinare insomma un po' quella che è la tua vita, quella che è la tua, diciamo, libertà anche affettiva, sentimentale. Quindi cerca di superare questo impasse, cerca di superare questa situazione e vedrai che le cose andranno sicuramente meglio, andranno sicuramente per il meglio. Quindi questo è un altro punto fondamentale che devi tenere presente. Non ci sono altre possibilità che sviluppare, diciamo, una buona armonia, una buona pace interiore, una buona armonia con se stessi. Questo davvero è un punto molto importante, un punto fondamentale. E poi un'altra cosa che devi fare è rinnovarti. Rinnovarti cosa vuol dire? Vuol dire che devi cambiare, diciamo, nei social, devi apparire trasformata. Trasformata non vuol dire che devi, come dire, stravolgere il tuo modo di essere, assolutamente. Al contrario vuol dire diventare la migliore versione di te stessa, per cui tutte le attenzioni che hai da te stessa, tutta l'energia che hai da te stessa è fondamentale per stare meglio, è fondamentale per farti percepire come una persona più importante. Fare, avere quella rivalsa, insomma, nella sua testa deve scattare. Nonostante io non ci sia più, anzi, forse perché io non ci sono più, sono riuscita e lei sta bene, lei è felice. E questa è un'altra cosa fondamentale. E poi il quarto punto è quello dell'utilizzo consapevole degli antagonisti, cioè non dedicare più attenzione a questa persona e trovarti un'altra persona, ma non trovarti un'altra persona, come dire, come tappabuchi. Iniziare a frequentare tante persone fin tanto che non emergerà. E potrà emergere una persona nuova soltanto quando ti sarai tolto dalla testa questa. Quindi è veramente importante togliersi dalla testa sto rompicoglioni una volta per tutte, in modo tale che tu possa trovare poi veramente la persona giusta, la persona che ti può dare qualcosa in più, la persona che ti può dare un incentivo, che ti può dare un coinvolgimento che altrimenti non riusciresti ad avere. Altra cosa veramente importante, veramente fondamentale per stare bene, per raggiungere quelle che sono, diciamo, un livello di, come dire, consapevolezza, un livello di positività e consapevolezza soprattutto delle proprie possibilità. Perché nel momento in cui tu sei consapevolezza delle tue possibilità, automaticamente questa consapevolezza, questa sicurezza viene trasferita a questa persona e questa sarà la tua rivalza, sarà la tua più grande rivalza. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.